Mattia Bottolo, MVP di questa Chione Padua di questa sera, un commento a caldo sulla partita, due punti, quanto ci speravate in questa vittoria? La partita l'avete vista, vincere a Trento si conta sui dita delle mani penso, l'ultima volta è stata due anni fa, abbiamo fatto veramente una partita spettacolare, stupenda, stasera penso ci è successo lo stesso. Abbiamo approcciato la partita con molta serenità, consapevole dei nostri mezzi ma consapevole anche della forza di Trento, abbiamo saputo soffrire nei momenti in cui loro giocavano veramente bene e abbiamo saputo starli lì nei set che abbiamo vinto, questo ci dà merito e ci dà tanta forza per il lavoro in palestra e per le prossime partite. Credo sia stato importante anche per voi soprattutto il fatto di non mollare, il primo set poteva presagire una disfatta, cosa che in realtà non è stata. Da due set vinti con la voglia, con l'unghia, con i denti allo scadere, un quarto subito alla rimonta di Trento per poi chiudere al tie break in un modo emozionantissimo. Quindi cosa vi portate a casa soprattutto dal punto di vista dell'entusiasmo? Questa partita è stata veramente importante per noi, come ho detto prima, per la quantità di energia che ci darà il lavoro in palestra. Noi abbiamo fatto un 3-2 con Ravenna dove, pur soffrendo per lunghi tratti della partita, siamo riusciti a portarla a casa. Ci ha dato forza, siamo venuti qui con le idee libere, con la mente libera, sperando di fare un buon risultato. Direi che è venuta una cosa veramente stupenda, adesso abbiamo una settimana per prepararci a Tarto se non sbaglio e quindi lo faremo al massimo. Diciamo che i festeggiamenti li faremo stasera, però già dopo domani dobbiamo ricominciare. Grazie mille a Mattia Bottola, MVP di questa bellissima sfida. Grazie a voi.